Where's your mind? Eccoci qui ragazzi nel gioco Questo è il tutorial Dobbiamo salvare lui da un cecchino Questo è il mirino del cecchino L'abbiamo salvato in questo caso ragazzi Molto semplice il gioco Lei come sta oggi Donald Trump? Non so già come si gioca Perfetto Così si gioca ragazzi Perfetto Oh ci voleva santissimo Ci voleva Ma che cosa è successo? Ok questo mi pare un po' più difficile E infatti è morto Bravissimo No è morto Cosa? Che bugia È morto? Boh Io lo salvo e ci crepa Dai Come l'ho salvato ragazzi Come l'ho salvato Perfetto Passiamo a livello successivo ragazzi Che diamine Oh mio dio Devo buttare giù il muro Qui sono weak Ecco si è morto Malissimo Eeeh Distra poco ragazzi Andiamo in slow motion L'ho preso L'ho preso ragazzi L'ho preso Grandissimi Mamma mia ragazzi Che pro che siamo Abbiamo completato subito il primo mondo Passiamo subito al secondo mondo Non so cosa ci aspetta in questo mondo Grandissimi Che salvataggio ragazzi Che pro che siamo Mamma mia No Le bombe Non le voglio Eeeh Ci è crepato Malissimo Vai E ci è crepato Ma non è Cazzo Possibile Stai fermo Le abbiamo salvato ragazzi Grandissimi Grandissimi Le sue state Si sono rotte Ma lui è vivo Ok Scendiamo qua E ci è già crepato Così a caso Muore a caso E vola via Poi che cazzo Che ne hanno sti giochi Perché io devo giocare a sti giochi Non so cosa cazzo Non so cosa cazzo Non so cosa cazzo Non so cosa cazzo Alzati Alzati Cosa Mi fuggite mi fatti La schia E' di nuovo Capo Dai Quanti coi devi Perché Cazzo Dai Paffanculo Dai Quanto Dai Paffanculo Dai Paffanculo Dai Dai Paffanculo Cosa Cosa Non è che Ma non è possibile Ma quanti problemi E' quello che fa L'uncello E' l'altro Cazzo E' l'altro Cazzo E' l'altro Cazzo Che cazzo E' successo Si è buggata La parete Vai 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 Stavolta L'ho salvato Si è buggata La parete Per quale motivo Non si sa Non facciamo domande Ok ragazzi Abbiamo completato anche sto mondo Io direi di fare L'ultimo mondo Il terzo Poi gli altri mondi Li completeremo Nel prossimo episodio Ragazzi Fatemi sapere Di cosa ne pensate Di questo gioco Bello 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 Ok ragazzi Terzo mondo Per noi Che cazzo Sono ste robe Ecco Siamo crepati subito Vai piano però Perfetto Bravo Non crepare E' efficiente Non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Noi siamo volati via Come me ci sono dei tizi In gabbia Ok ragazzi Siamo volati via Alzati In efficiente Che cazzo fai Devi salvare Il tuo presidente L'ha preso L'ho spostato Povero Trump Dai Deficiente Spostalo Grandissimi Che diamine Là c'è un cecchino Che cazzo fa Perché ha sparato in parte Non a Trump Boh Dovete acclamare me Grazie ragazzi Grazie Perché devo fare ste cagate L'abbiamo salvato Che cazzo sono Vedi essere troppo ricco Spostalo L'abbiamo salvato L'abbiamo salvato No 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 Cos'è la pioggia Quanti cazzo ne cadono L'abbiamo salvato E si è in tribuna Però fa niente L'abbiamo salvato E questo è l'importante Ragazzi Oh my fucking Che cazzo è Ma che cazzo è Uno Eh c'è morto Bravissimo Mamma mia catleta Slow motion E vai ragazzi Grandissimi Grandissimi Prossimo livello Ah abbiamo finito Anche il terzo mondo ragazzi Abbiamo finito il terzo mondo Nel prossimo episodio Andremo a fare il quarto Il quinto Il sesto mondo Spolliciate se volete Vedere altri video Io vi lascio Con questo bellissimo Trump Davanti a noi Ci becchiamo Al prossimo video ragazzi Bella ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti